Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova recensione. Il film che tratterò oggi si chiama The Thing e volevo fare la differenza tra i due, quello di John Carpenter e quello del 2011 che sarebbe il prequel del film. Ma bando alle ciance, iniziamo subito! Esci da questo corpo! Come avete visto, il video è fatto benissimo. Cioè, è perfetto. Non è neanche fatto al computer, è fatto proprio da Dio, sembra quasi reale. Cosa che invece nel prequel è palese. Eh, niente di che. Ed è qui che cominciano i veri problemi del prequel. Se vuoi fare un prequel, inizia guardandoti il film che verrebbe dopo. Comincia a domandarti in che epoca siamo, la tecnologia che c'è. E poi fai il film. Non puoi venirmi che nel primo Car Russell, che sarebbe il protagonista, se ne vieni fuori con un computer che è uno schifo. Cioè, nel senso, schifo. Era il computer più avanzato che c'era ai tempi, però faceva sempre schifo. In confronto a quelli che fanno vedere nel prequel, che sono già schermo piatto, sono già portatili. Cioè, non ha un senso. Poi, mi fanno vedere un elicottero che è della Seconda Guerra Mondiale, e poi mi fanno vedere un elicottero che viene usato al giorno d'oggi. Non ha senso. Perfino le cose, i camion che usano per andare a fare le scansioni nell'Antartide. Cioè, non hanno quella tecnologia a quel tempo. Cos'è? Siamo tornati nel passato, tutto un tratto, no? Così? Ma sì. E per di più, si sta parlando di norvegesi. Perché mi fai la protagonista inglese? O meglio, americana. Non puoi farmi una cosa del genere. Ho capito che la squadra era in parte americana, in parte norvegesi, ma non è possibile. Che poi? Che cazzo di fine fa quella donna? Cioè, alla fine finisce tutto con i due norvegesi, uno che era rimasto lì addormentato, che era lì, proprio così, l'altro che arriva con un altro elicottero, il cane è sopravvissuto, che se ne scappa, questo qua gli dice, non è un vero cane, uccidiamolo, dobbiamo massacrarlo, dobbiamo ucciderlo, prima che raggiunga altre zone abitate, che gli in realtà dire, che cazzo vuoi che ci sia di abitato? Però vabbè. finisce anche con la donna che esce fuori dalla navicella che, vabbè, ha ucciso l'alieno, quello lì che sarebbe il suo capo, uccide il tipo che non ha più l'orecchino, quindi lei se ne accorge che è un alieno, lo brucia, brucia il coso e rimane lì. Così, prende l'altra, quella del tipo che era venuto prima, e vedi che se ne va dove, dove vuoi che vada, dove vuoi andare, cioè sei morta, non è che puoi, puoi dirmi, adesso mi salvo così per miracolo, prove, almeno in quello di Karrasel finisce, che vabbè, fanno esplodere tutta l'installazione, che ben venga, piuttosto di far uscire un cazzo di verme gigante con la testa ancora dello scienziato, sti cazzi, faccio saltare in aria anch'io tutta la baracca, mi godo le ultime ore di vita che ho col fuoco e col calore, e poi quando si spegne sono fregato. Ma la cosa che più mi fa incazzare del prequel è che i personaggi, per quanto siano esperti, per quanto siano grotteschi, non è che scappano, cioè loro si fanno prendere dal panico e muoiono, muoiono quasi tutti così, che non sanno come fare, rimangono lì, urlano e se ne stanno lì, proprio una cosa trash del film horror. Mentre in quello di John Carpenter, loro si fanno prendere di sorpresa, è una cosa che non possono proprio combattere, non sanno chi sia, non sanno quando colpirà e quando colpisce. non è che te lo fanno vedere, nel senso che loro lo vedono, se ne accorgono e muoiono, ma loro non lo riescono neanche a vedere, non riescono nemmeno a accorgere che sono già morti. Cioè, loro lo vedono, stanno lì, incantano e poi vengono uccisi. Mentre nel primo film, loro lo vedono e sono già morti. Perché? Perché ovviamente John Carpenter riesce a rendere i mostri, le cose, molto più misteriose, molto più, diciamo, sulla difensiva e sulla mimetizzazione. Ed è questa la cosa bella di quel film. Ed è una cosa che gli altri produttori non hanno visto e non hanno neanche notato. E hanno voluto fare qualcosa, sì. Ci sono scene belle, ci sono scene molto belle. Ti spiegano il fatto di come è successo quello lì dalla doppia faccia, che si attaccano, si appiccicano come una colla. Anche quello, vabbè, c'era qualcosina da vedere, però vabbè, è fatto bene. E in più c'è anche il pezzo, vabbè, del cane che se ne scappa e capisci da dove viene il cane e cosa è successo veramente. Una cosa che non mi è piaciuto, che non si vede, è il fatto del... del quello che fa vedere anche in quello di John Carpenter, che si taglia le vene, si taglia proprio tutte e due le braccia e rimane lì nella cosa, no? Si vede che si è dettagliato lui. Ma nell'altro film non si vede, cioè, o che hanno tagliato la scena o proprio l'hanno proprio omessa perché non era sufficiente, cioè non era importante. E niente, questa era quella mia opinione tra i due film, ovviamente quello di John Carpenter per me rimane una leggenda, una cosa da vedere, assolutamente da vedere, se vi piacciono i film horror. E l'altro, si, se volete capire un po' la storia prima che venissero, state, vabbè, non badate alla tecnologia che ovviamente è avanzata e non badate ovviamente alle altre cose che hanno messo, che sono dei tempi di oggi. Niente, io spero che il video vi sia piaciuto, vi mando tanti cari saluti e ci vediamo alla prossima recensione. Grazie.